Ho trovato le parole del Ministro Alfano molto gravi al limite della irresponsabilità. Definire una rivoluzione contro natura e il riconoscimento da parte del partner di una coppia omosessuale, di un figlio che già esiste in alcuni casi, è un modo di mancare di rispetto alla realtà di tante famiglie arcobaleno che riversano già oggi un amore infinito nei confronti di bambini e bambine che hanno diritto al rispetto e all'affetto di tutti i bambini.